Ciao carer! Sono contentissima perché oggi per la prima volta utilizzeremo il nostro diario d'allenamento. Potete scaricarlo sul nostro sito e sul sito ci sono molte altre novità come l'applicazione di Chrome. Ora, prima di lasciarvi l'allenamento vi dico che per il calcolo il CFX di oggi è 1,5. Quindi non perdiamo tempo, vi lascio ora l'allenamento, buon allenamento e ciao! Vi faccio vedere gli esercizi che andremo a fare in questo workout. Sono 4 esercizi ripetuti 3 volte, quindi per 12 round, con 50 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa. Il primo esercizio è questo. Una gamba da perno, quindi col ginocchio leggermente piegato, un'altra gamba va all'indietro incrociata e tocchiamo terra. Saltiamo e cambiamo gamba. Secondo esercizio, vado a fare un affondo laterale. Quando ritorno nella posizione di partenza faccio un piccolo salto sul posto e riparto dall'altra parte. Terzo esercizio, faccio uno squat e poi salgo con le punte dei piedi e mani in alto. Quarto ed ultimo esercizio, faccio degli affondi camminati alzando la gamba opposta. Ve lo faccio vedere. Adesso impostiamo il nostro interval timer e partiamo. Grazie. 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 Ready? All right. Ready? All right. Ready? 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 Come on. Ready? 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 Sì, sì. Ready? No, no, no. Ready? No, no, no. Ready? 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 Sì Adesso abbiamo finito il nostro allenamento Un po' di stretching e un po' di acqua E poi andiamo a vedere i risultati nel nostro diario di allenamento E poi andiamo a vedere i risultati nel nostro diario di allenamento Il risultato è 7,98 Cercate di battermi Potete postarmi il vostro risultato su Facebook Ricordatevi come sempre di cliccare mi piace sulla pagina Facebook E iscrivervi al mio canale Alla prossima e ciao! Grazie a tutti!